Acconciature, testa di pazzo, trentatré negozi in tutta Italia per essere sempre avanti, a cominciare dai capelli. Gerry Pazzo ti aspetta personalmente in tutti i trentatré negozi per farti provare le sue nuove tinte a pennarello carioca. Al centro Acconciature, testa di pazzo, troverai tantissimi giornaletti porno e lesbo che renderanno più piacevole l'attesa. Hai la testa calva? Gerry Pazzo è in grado di trapiantarti sulla testa i peli del tuo pube. Per conoscere l'indirizzo del centro testa di pazzo più vicino a te, chiama il numero verde 02 33 10 17 66. Per essere avanti, vieni nei nostri centri e anche tu potrai essere un vero testa di pazzo. Ciao, sono Federica Panicucci e anch'io quando vado dal parrucchiere vado da Acconciature, testa di pazzo.